Buonasera a tutti, noi siamo sempre in tour per la nostra bellissima Sicilia, stasera per esempio siamo a Castel di Tusa nella provincia di Messina, nel bellissimo scenario dell'atelier sul mare di Antonio Presti e presto nei prossimi giorni. Saremo dalle vostre parti nella bella zona di Mazzara del Vallo, nel Trapanese, a Borgata Costiera perché arriverò con il signore Rio Pernetti con il nostro spettacolo il 7 di agosto, quindi cominceremo noi questa bellissima festa del pane con il nostro spettacolo, ma nei giorni successivi ci sarà ancora divertimento e comicità l'8 di agosto con Giuseppe Castiglia, il 9 di agosto con Totti e Totino, quindi divertimento assicurato. Veniteci a trovare, io personalmente con Enrico Pernetti e Litteglio vi aspetto il 7 agosto, Borgata Costiera, Mazzara del Vallo, festa del pane, grazie a tutti gli organizzatori, grazie a tutti voi, grazie a Ciccia Foggia, vi voglio bene e vi abbraccio con tutto cori, ci vediamo il 7. Grazie a tutti!